Buongiorno e ben ritrovato a Marcello in questo video. Il contenuto che voglio portare oggi sul canale riguarda il Volume Profile e nello specifico le informazioni che si possono ottenere, perché devi sapere che il Volume Profile, detto anche distribuzione dei volumi per livello di prezzo, mette in evidenza non solo tante informazioni importanti, ma soprattutto il carattere dei partecipanti al mercato. Che cosa si intende il carattere dei partecipanti al mercato? Beh, si intende naturalmente tutta quella serie di atteggiamenti su specifici livelli di prezzo che vanno ad assumere i partecipanti al mercato. Ti faccio un esempio, a differenza del classico volume che puoi vedere in basso sui grafici, che metti in evidenza il volume per la giornata, per la sessione, con il Volume Profile hai la possibilità di vedere la distribuzione del volume, e quindi dove si va a distribuire il volume sui vari livelli di prezzo. Per questo video io ho portato l'Eurostox e l'S&P 500, giornalieri, è vero che è periodo estivo, è vero tutto quello che vuoi, oggi mentre registro è il 18 di agosto, oramai sono prossimo anch'io alle vacanze, alle ferie tanto meritate, ci sta anche quello. Però voglio portare questo contenuto perché indipendentemente dall'atteggiamento e dal periodo di mercato, l'atteggiamento dei compratori, dei venditori e dei player, cioè di chi partecipa al mercato, esprime molta informazione all'interno del Volume Profile. Ti voglio fare qualche esempio, partendo dai più semplici, dalle forme delle distribuzioni. Ci sono distribuzioni, innanzitutto due categorie, le distribuzioni distribuite e non distribuite. Questa è la primissima distinzione. Le distribuzioni di volume non distribuite sono quelle che non mettono in evidenza nessuna forma in particolare, quindi sono tendenzialmente seghettate per livelli di prezzo e via dicendo. Non hanno una forma. Nelle distribuzioni invece distribuite possiamo trovare le distribuzioni bilanciate, sbilanciate e lì si apre un mondo che non voglio volutamente toccare in questo video perché diventa troppo tecnico e per quello ci sono i percorsi di informazione. Ma detto questo, la forma della distribuzione e soprattutto come si distribuiscono i volumi sui livelli di prezzo ha certamente un impatto significativo sull'analisi. Voglio portarti qualche esempio. È vero, il 10 di agosto c'erano i dati, va bene tutto, il mercato che è partito in una maniera notevole ha fatto questo movimento forte. Adesso qua sotto non è che non ci sia volume, è semplicemente che il volume viene sostanzialmente nascosto dalla distribuzione, ma ci sono volumi sottilissimi. Che cosa significa questo? Questa qui è una distribuzione sbilanciata a forma di P con molto volume sulla parte alta del mercato e 4204 è il volume POC, cioè il livello all'interno della candela, aggiornato in questo caso, di osservazione è il livello di prezzo su cui è stata scambiata la maggiore quantità di volume. Indipendentemente dal fatto che sia comprato, venduto, eccetera, eccetera, su quel livello di prezzo è stata scambiata la più grande quantità di volume. Andiamo a prendere la stessa giornata del 10 su Eurostox. Situazione analoga, eccola qui, poco cambia, nel senso che anche qui abbiamo una distribuzione sbilanciata a forma di P con molto volume nella parte alta del mercato, addirittura qui abbiamo una velio area che va a lavorare sulla parte superiore, proprio sui massimi della giornata e questo, credimi, è già un'informazione rilevante. E anche qui abbiamo una zona di basso, scarso, se non scarsissimo volume. Che cosa significa? Che in questa zona significa da un lato che il mercato era estremamente sottile nel momento del rilascio dei dati e dall'altro che è stato colpito con forza per dargli spinta, direzione e intensità. Ora capisci che se i compratori hanno colpito i venditori e i venditori erano scarsamente presenti sul book, gli hanno lasciato la possibilità di attraversare il livello di prezzo senza fatica. In questo caso è evidente come a fronte di uno strappo di volatilità il mercato abbia lavorato pochissimo in termini di tempo, in termini di quantità di volume scambiato su questi livelli di prezzo. La stessa cosa la vediamo su Standard & Poor's, qui addirittura più enfatizzata, proprio perché vediamo questo strappo forte al rialzo. Altro tipo di distribuzione, per esempio una distribuzione sbilanciata, quella del giorno prima. eccola qui. Questa è una distribuzione sbilanciata a forma di B, con in questo caso un range negativo, un volume POC basso e una video area tutto sommato compressa e strutturata prevalentemente sulla coda inferiore della distribuzione e di conseguenza sulla coda inferiore del mercato. Questo è un'altra informazione rilevante perché già con questo tipo di distribuzione, con molto volume localizzato nella parte bassa e un mercato che non accelera di basso, qualche ragionamento deve venire sul fatto di impostare un'operatività lungo corta. Andiamo a vedere un altro tipo di distribuzione che è quella che a me piace tantissimo ed è presente soprattutto nell'intraday ed è una componente dei miei setup operativi molto molto forte, che è la distribuzione di tipo simmetrico. simmetrico e bilanciata, qui la vedi per il 4 di agosto, è una distribuzione molto particolare che esprime instabilità sul prezzo, nel senso che i compratori e i venditori si sono riequilibrati attorno al livello di prezzo ben preciso e hanno creato una value area e una distribuzione di tipo simmetrico. Il fatto di avere una distribuzione di tipo simmetrico non va a impattare sulla qualità del setup o comunque dell'idea di quella che può essere, diciamo così, l'instabilità tra i compratori e i venditori. Va semplicemente a creare poi una forma ben definita nella value area. In questo caso possono esserci delle distribuzioni a bassa precisione o ad alta precisione. Anche qui entriamo in un tecnicismo che forse va oltre il significato di questo video. Però l'idea di questo video nasce proprio, di questo contenuto nasce proprio per mettere in evidenza quante informazioni ci sia dietro una distribuzione dei volumi. Da questa informazione nasce veramente tutto. È chiaro che là fuori c'è tanta gente che mi dice Ah ma Marcello qui hai una distribuzione sui massi con un delta negativo, una serie di cose particolari e perché non ha un'informazione corretta, una piattaforma corretta e un'adeguata infrastruttura non riesce magari a percepire questo tipo di scenari. Ma credimi, l'analisi giornaliera che io faccio come mantra ed è diventato veramente un mio punto forte che condivido con il mio gruppo di lavoro L'analisi giornaliera serve e deve servire proprio a questo a identificare alla mattina, prima di cominciare a trattare che cosa hanno fatto i compratori, i venditori o comunque i player di mercato nella giornata precedente perché è quella che inevitabilmente dà questo scenario di fondo poi dopo andiamo a cercare tutti i vari setup sui grafici intraday ma la comprensione e l'analisi delle distribuzioni è fondamentale quindi per concludere, non legarti solo ed esclusivamente a quella che è diciamo così la distribuzione dei volumi come voglio un POC e velio area vai a fondo su queste informazioni, fai ricerca, vai a vedere per esempio come si compongono le distribuzioni di tipo bilanciato e simmetrico sono molto molto forti come setup operativi e danno delle informazioni che sono fondamentali e ci permettono di capire o comunque di impostare di preferire un certo tipo di operatività piuttosto che l'altra ovviamente la base di partenza ha un solido flusso dati una solida quantità e precisione nell'informazione sul grafico quindi lascia stare i CFD, lascia stare i mercati non regolamentati in genere ma lavora solo ed esclusivamente con dei volumi distribuiti per livello di prezzo che siano realmente stati scambiati su mercato regolamentato e questa è un'altra cosa che è bene dire, sottolineare e suggerire in mille e uno modi per intenderci il volume profile sui CFD è il volume profile della persona che tratto o dei clienti che trattano contro l'intermediario bene, detto questo io spero che questo contenuto abbia stimolato il tuo interesse e ti porti a ragionare in maniera un po' più aperta sulle informazioni che una distribuzione dei volumi può rivelare ti auguro buon proseguimento, buon trading, buon gain, buon fine estate buon rientro dalle ferie questo video verrà pubblicato nella giornata di domani però insomma buon lavoro da Marcello e mi raccomando iscriviti al canale se il video ti è piaciuto metti un mi piace che mi lusinga, non mi cambia la vita come dico in tutti i video ma è un segno di apprezzamento che certamente mi fa piacere i commenti sotto al video e sarò felice di risponderti buon proseguimento e al prossimo video da Marcello